Scrivere per la dignità umana. Sarà questo il filo conduttore della diciottesima edizione del Festival Dedica, che si terrà a Pordenone dal 10 al 24 marzo 2012. Protagonista del Festival quest'anno, uno dei grandi intellettuali del nostro tempo, il nigeriano Volso Inca, premio Nobel africano per la letteratura, universalmente noto anche per il suo impegno civile. Nel segno di una formula che l'ho reso unico e inimitabile nel panorama nazionale, Dedica offrirà nell'arco di due settimane la possibilità di approfondire la conoscenza con So Inca e il suo mondo attraverso conversazioni, mostre, spettacoli, conferenze e musica, in un intreccio di linguaggi, espressioni artistiche, personalità e discipline differenti. Cornice degli eventi in calendario saranno il Teatro Verdi, il Convento di San Francesco, il Municipio, Parco, spazi espositivi di Via Bertossi e la Biblioteca Civica. Dedica, ve lo ricordo, ha avuto la medaglia d'argento dal Presidente della Repubblica, quindi è una delle manifestazioni culturali più importanti non solo nella nostra regione, è una ricaduta nazionale, lo ha sempre avuto. Perché? Perché alla fine ha avuto la capacità di portare qui dei personaggi straordinari. Quest'anno secondo me c'è un motivo in più, perché questo gigante dormiente che è l'Africa ci offrirà la possibilità di dialogare con due personaggi, So Inca secondo me è quello più importante, che ci daranno uno spaccato interno di quello che è un grande paese come la Nigeria e ci farà riflettere perché questi movimenti, quello che ci dirà è questo personaggio, parlando di una realtà così complessa, ci farà anche ragionare su come l'Africa evolverà nei prossimi anni. Quindi un merito a Dedica, una grande occasione per Pordenone come sempre, ma non solo per Pordenone ma per tutta la regione.